benvenuti a un nuovo video della comunità italiana del trono di spade rcg oggi facciamo un video che ci avete richiesto in molti è un video sul deck building allora precisiamo che non sarà un video in cui vi spieghiamo come montare tutti i mazzi che volete preparare i singoli mazzi che volete preparare ovviamente sarà ben possibile farlo vi daremo soltanto alcune indicazioni molto generiche e generali su come quali sono le proporzioni all'interno dei mazzi che è bene più o meno rispettare e quindi come puoi andare a costruire la struttura di un di un mazzo del trono di spade oggi sono qua con fabio ciao a tutti e che mi darà una mano a farvi vedere insomma un po' qual è la struttura dei mazzi che tipicamente bisognerebbe mantenere per ottenere i migliori risultati bene partiamo come prima cosa a parlare di due grosse categorie di carte che dovete distinguere all'interno dei vostri mazzi le due grandi categorie in cui si dividono le carte all'interno del vostro mazzo sono le carte che vi permettono di fare di essere giocate durante il setup e le carte che non possono essere giocate durante il setup quali sono queste come si come si fa a distinguere beh dovreste ormai se avete giocato un po' averlo capito da soli comunque brevemente tutti gli eventi sono carte ovviamente che non possono essere usate e giocate durante il setup ne vediamo giusto un paio giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando benissimo come sapete già non sono carte utilizzabili durante il setup e a questo bisognerebbe aggiungere ovviamente a tutti i luoghi e i personaggi che eventualmente costassero più di otto ori che è il limite di ori che abbiamo a disposizione per giocare carte durante la fase di setup a questo io aggiungo anche alcune aggiunte nel senso che il nuovo regolamento della 2.0 ci dice che possiamo giocare aggiunte durante la fase di setup ma li possiamo assegnare solo a nostri personaggi ovviamente mettere delle aggiunte come per esempio un latte di papavero in setup vuole dire assegnarlo a un nostro personaggio cosa che comunque possiamo fare in certe situazioni magari per vedere poi una carta in più eccetera però non è sicuramente una soluzione ottimale per cui io nel computo generale considero questi generi di equipaggiamenti o diciamo è meglio considerare questo genere di equipaggiamenti fuori da quello delle carte setup abili invece altri equipaggiamenti come per esempio un arramento di vedova sono sicuramente da considerare tra le carte setup abili per cui ecco le mettiamo qua in alto questo perché perché la fase di setup è estremamente importante nella logica della partita quindi è bene sempre avere dei partire con dei buoni setup e avere poche carte nel mazzo che non siano setup abili ci aiuta e ci avvantaggia appunto durante la fase di setup dopo vedremo anche la curva di costi e parleremo anche della curva di costi in reazione sempre proprio al setup tanto per farvi capire quanto nella logica della costruzione di un mazzo considerare il setup è determinante per cui per darvi un'indicazione di massima e oggi vedrete che molto spesso vi daremo delle indicazioni che ripeteremo sempre sono di massima per cui poi quando andrete a costruire i vostri mazzi potete anche discostarvi da quello che vi stiamo dicendo quando lo fate però dovete farlo sempre in maniera ragionata e valutando bene quello che fate altrimenti cercate di attenervi a quello che vi diciamo il nostro suggerimento è quello di restare all'incirca su massimo un sesto o diciamo comunque intorno a un sesto delle carte all'interno del vostro mazzo che non siano giocabili nel setup ovviamente è meglio fare meno possibili però ovviamente non si può rinunciare totalmente a giocare eventi che sono molto forti o anche alcuni generi di aggiunte per cui il nostro suggerimento è questo beh sì più che altro ricordate sempre che più riuscite a fare dei setup decenti più riuscite a repullare carte più quindi saranno le carte che riuscite a vedere entro il primo turno questo vi darà un notevolissimo vantaggio sia in fase offensiva che in fase difensiva che in fase di costruzione successivamente sì quindi un sesto vuol dire tanto per capirci all'incirca 10 carte state circa sulle 10 carte che non possono fare setup io non andrei oltre soprattutto in questo momento per vari motivi poi vedremo perché dico soprattutto in questo momento perché nella logica di fare un buon setup non rientrano soltanto le carte che non sono completamente setup abili ma anche i costi medi che abbiamo all'interno del mazzo quindi la seconda considerazione che facciamo su come costruire un mazzo dopo aver visto dopo aver capito che la prima cosa da fare è considerare carte setup abili non setup abili è considerare la curva dei costi medi che abbiamo all'interno del mazzo la curva dei costi è importante perché ovviamente avendo solo otto ore a disposizione per schierare carte in durante la fase setup se abbiamo tanti tante carte nel nostro mazzo che costano 5 7 6 ore eccetera eccetera ci troveremo con pochissime opportunità di giocare le carte esattamente questo potrebbe inficiare appunto il repull e di conseguenza tutto il resto benissimo quindi il nostro suggerimento è quello di giocare il più possibile carte utili ovviamente utili per la logica del mazzo che andate a costruire che costano 0 1 e 2 perché sono le carte che più facilmente con questi costi potete abbinare insieme per arrivare ad un numero di carte in setup buono qual è il numero di carte in setup buono allora indicativamente tendenzialmente considerate sempre che un setup fatto a 4 carte sulle 7 che pescate è un setup buono quindi questo vale genericamente per tutti i mazzi ci sono mazzi che gli va benissimo fare anche setup con 3 carte perché sono costruiti in maniera con tante carte costiati in maniera particolare eccetera eccetera però considerate sempre che il setup medio buono è a 4 carte in questo gioco so che magari sembra un po' transciante queste indicazioni però mi avete chiesto questo video vi devo dare delle indicazioni di massimo quindi prendete per buono le 4 carte di setup ovviamente per farlo come capite anche voi sarà necessario avere tante carte a costo 0 1 e 2 perché sono quelle che più vi aiutano perché sommandosi tra di loro vi permettono di arrivare alle famose 4 carte di setup benissimo ok abbiamo capito il setup la seconda cosa da considerare quando costruite un mazzo quindi dopo tutte le considerazioni da fare sul setup invece è gestire l'economia all'interno del vostro mazzo l'economia all'interno del mazzo è molto importante normalmente l'economia si intende le risorse che poi avrete a disposizione in risorse considerate in ori bonus e sconti in questo caso per giocare poi le carte durante il vostro turno quindi saranno importanti avere poi nel mettere nel vostro mazzo un adeguato numero di carte che diano ori e sconti ve ne facciamo vedere alcune tipiche che metterete in tutti i mazzi quindi avrete sempre la strada delle rose metterete quasi sempre nei mazzi la strada del re e giocherete probabilmente anche la limite da costo 0 che tutte le casate hanno e che scontano le carte di casata sono carte fondamentali quante carte giocare che danno ori e sconti all'interno del mazzo allora anche qui indicazione di massima però è sempre bene avere almeno una dozzina di carte che vi forniscono bonus in ori o sconti per giocare personaggi esattamente per questo poi ci ritroveremo malagurtamente almeno per ora a giocare con tante carte che hanno la dicitura limitata esatto intanto aggiungo altre carte che danno sconti come per esempio tutte le casate praticamente hanno almeno un personaggio che sconti i personaggi in casata ci sono alcuni personaggi che forniscono che forniscono ori bonus scusatemi vedete per esempio un personaggio rannister ma poi ci sono anche personaggi generici come dito corto quello che diceva Fabio è molto importante perché quasi tutte o almeno diciamo gran parte delle carte che danno bonus di ori e sconti hanno la parola chiave limitata esattamente la quale ci permette di giocare solo una di queste tipologie di carte a turno quindi avere due carte limitate in mano ne potremmo giocare solamente una a turno esatto quindi anche questo dovete un po' considerarlo diciamo che in questa prima fase in cui comunque le carte che forniscono ori e sconti sono in numero limitato e quindi le nostre scelte all'interno delle scelte che possiamo fare tra queste carte è limitata di per sé proprio dalla tipologia di carte che abbiamo a disposizione giocherete con un numero di limitate probabilmente molto elevato per molto elevato intendo che probabilmente ne giocherete almeno 9 nel vostro mazzo diciamo che ci possono essere dei mazzi che già adesso giocano con meno di 9 limitate e ci sono anche dei mazzi che già adesso giocano con più di 9 limitate come per esempio ho visto alcuni Rannister esattamente purtroppo il Rannister avendo un personaggio che fornisce ori come abbiamo visto precedentemente e che quindi ci permette di avere il turno successivo più ori deve gestire molto attentamente questo tipo di carte che sono limitate ok quindi comunque è bene che abbiate sempre una dozzina di carte che vi forniscono ori e sconti all'interno del vostro mazzo vi abbiamo fatto vedere praticamente tutte quelle che sono disponibili nel corset sostanzialmente quindi la limitata in casata che sconta le carte di casata strada del re, strada delle rose, personaggi in casata che scontano i personaggi dito corto che è per tutti, i Rannister in più hanno anche l'usuraio molto altro non c'è in questo momento se usciranno altre carte che vi daranno ori o sconti che magari non limitate soprattutto e che quindi potete sostituire con carte limitate ovviamente vi aiuteranno a migliorare il vostro setup perché anche in setup le carte limitate ne potete mettere una sola quindi avere due strade delle rose o una strada delle rose e una strada del re in mano in setup costano poco però non potete giocare una sola quindi comunque è un limite bene quindi il nostro mazzo come vedete si va formando abbiamo parlato di una decina di carte che non sono setup abili abbiamo queste carte che gestiscono invece l'economia del mazzo che sono fondamentali e che sono sempre una dozzina diciamo e si dividono tra ruoli e personaggi genericamente più ruoli che personaggi a questo punto possiamo sbizzarricci a costruire cioè prendendo questo come punti di riferimento poi possiamo sbizzarricci a costruire il nostro mazzo le proporzioni all'interno del mazzo ovviamente possono essere varie a seconda della tipologia di mazzo che costruite e della strategia del mazzo diciamo che a grandi linee possiamo dire che un mazzo normalmente gioca almeno la metà del mazzo costituito da personaggi esattamente infatti senza personaggi non possiamo riuscire a vincere né o pari di sfide di conseguenza almeno la metà delle carte nel mazzo devono essere personaggi sì direi che anche qua ci possono essere mazzi che ne giocano più di 30 quindi personaggi nel mazzo e oddio mazzi che in questo momento si azzardino a giocare con meno di 30 personaggi nel mazzo io non ne ho visti però diciamo che eventualmente si possono sperimentare ma è rischioso quindi comunque prendete come indicazione giocare almeno una trentina di personaggi nel mazzo se a questi sommate le 10 carte che già avete abbiamo visto essere costituiti da alcuni aggiunte e soprattutto da eventi arriviamo già almeno 40 magari anche 45 carte a queste dobbiamo aggiungere ancora alcuni ruochi che abbiamo visto che sono quelli che danno gli sconti che ancora vedete inquadrati arriviamo già sulla cinquantina di carte quindi il nostro mazzo come vedete si è rapidissimamente costruito ci rimane una decina normalmente una decina di spazi da poter gestire a questo punto come li gestiamo dipende per quella diciamo per questa quota di un sesto del mazzo direi è molto soggettiva alla logica del mazzo che abbiamo innanzitutto abbiamo da citare luoghi che per tutte le casate non forniscono gli sconti ma sono molto performanti ce li hanno tutte le casate e quindi è bene investire una quota di questi 10 spazi famosi liberi magari in luoghi di casata esattamente perché alcuni di questi luoghi hanno degli effetti estremamente utili ci possono permettere di pescare piuttosto che dare dei bonus di un certo tipo e che quindi andranno sicuramente a agevolarci durante la fase delle sfide benissimo eventualmente poi potremmo se abbiamo ancora spazi potremmo aumentare il numero di personaggi che è sempre una cosa buona in questo gioco oppure eventualmente anche mettere altre tipologie di carte come aggiunte o magari qualche evento in più se sono molto performanti e vediamo che ci servono proprio per le dinamiche della strategia del nostro mazzo e in questo modo arriviamo magicamente a 60 carte quindi come vedete in realtà costruire un mazzo non è poi così difficile se teniamo conto delle esigenze di base che tutti i mazzi hanno una trentina di personaggi una dozzina di carte che ci forniscono l'economia del mazzo e una decina di carte non setappabili ma che però sono utili per le strategie del mazzo stesso quindi sostanzialmente arriviamo a costruire il nostro mazzo molto rapidamente le scelte che facciamo ovviamente poi quelle sono importanti sono scelte i deck building e noi ovviamente non ci addentriamo adesso vi faccio vedere un sito internet che vi consiglio moltissimo che vi può aiutare nella costruzione nel deck building del mazzo e anche nell'analisi che potete fare del vostro setup per esempio delle mani iniziali che avrete a disposizione io spero di riuscire a farvelo dire ecco è questo un sito in realtà francese è tutto in inglese però è molto facilmente utilizzabile e comprensibile da tutti direi si chiama tronesdb.com vi lascio anche il link nell'info box sotto il video il sito è molto bello innanzitutto vi mette a disposizione un database in cui potete vedere tutte le carte vedete qua sono elencate tutte le espansioni se lo aprite vi mostra tutte le carte se vi registrate potrete anche costruire i vostri mazzi di carte c'è un deck builder che vi permette di costruire i vostri mazzi di carte vi permette anche di stampare la lista del mazzo quando andate ai tornei molto bello però la cosa che ci interessa adesso vado qui nella sezione deck list dove trovate mazzi fatti dagli utenti e che hanno deciso di condividere pubblicamente qui vedete trovate una serie infinita di mazzi fatti dagli utenti quindi potete anche prendere degli spunti se volete però aprendone uno ci accorgiamo che il sito ci dà anche delle utility molto belle perché ci dà la lista del mazzo ovviamente adesso aspettiamo un attimo che si carichi ecco vedete che mi provo ad avvicinare un attimo vediamo che vediamo che c'è la lista benissimo ecco qua sotto vedete dei grafici questi grafici sono interessanti perché vi forniscono tutte delle statistiche che il sito fa in automatico alcune di queste statistiche sono importanti soprattutto quello del questo schema che vi fa vedere la curva dei costi all'interno del vostro mazzo che è molto importante vi fa vedere a colpo d'occhio quante carte a costo 0 a costo 1 a costo 2 a costo 3 avete all'interno del mazzo e anche eventualmente la forza media dei personaggi che avete all'interno del mazzo le icone la distribuzione delle icone dei vostri personaggi all'interno del mazzo tutte indicazioni importanti Fabio? direi che diventa un sito estremamente utile con delle opzioni interessantissime proprio per quello che ci permetterà poi di vedere come abbiamo costrutto il nostro mazzo vedete appunto che abbiamo la curva ma si può andare un attimo in più in basso così possiamo far vedere anche il numero delle carte i costi i numeri personaggi ed eccoli qua noi da qui potremo andare a visionare quindi quanti plot up stiamo mettendo nell'eventualità quanti personaggi abbiamo vedete c'è il numero dei personaggi che ci sono nel mazzo per esempio questo mazzo ne gioca 36 ne abbiamo preso uno completamente a caso gioca 9-20 vedete quindi 9 carte assolutamente non setupabili magari avrà anche qualche attachment vedete che ha anche un paio di mirk quindi arriva all'incirca a 9-11 carte che comunque non sono ottimali in setup insomma come vedete più o meno ritornano un po' a tutte le indicazioni che vi dicevamo prima bene ok io direi che con questo per il mazzo quantomeno per la costruzione del mazzo di gioco è tutto insomma io direi che poi se avete altre domande ce le fate nei commenti e cercheremo di rispondervi spero che siamo riusciti ad essere abbastanza esaustivi su quello che dovete considerare sulle cose a cui dovete pensare soprattutto quando costruite il vostro mazzo di gioco passiamo rapidissimamente a parlare del mazzo delle trame allora il mazzo delle trame è abbastanza semplice in realtà da comporre dovete considerare sempre che devono essere sette carte solo una può essere raddoppiata a meno che ovviamente sulla carta non ci sia scritto che ne potete avere una sola all'interno del mazzo delle trame e oltre a questo le considerazioni sono in realtà tutte quante vediamo per esempio vedete qua per esempio abbiamo una superiorità navale che vi dice che ha limite nel mazzo una per le trame una sola quindi potete raddoppiarne una sola tranne quelle che vietano questa cosa diciamo che nella logica della costruzione del vostro mazzo delle trame dovete badare alla strategia del vostro mazzo perché il mazzo delle trame è proprio quello su cui si incardina la strategia dei singoli mazzi quando lo costruite pensate sempre a mettere un determinato numero di trame che vi diano sufficienti oli per giocare le carte che avete nel vostro mazzo quindi trame che vi forniscano risorse trame magari invece che vi forniscano protezione come per esempio karma sul continente occidentale che è ottima anche perché appunto vi fornisce un numero considerevole di oli trame appunto che vi dicevamo invece vi aiutano a schierare tanti personaggi come una nobile causa e poi trame che invece sono proprio specifiche per la logica del vostro mazzo come per esempio questa superiorità navale che vi permette di diciamo di andare contro le strategie dei vostri avversari o di potenziare la strategia di base del vostro mazzo poi c'è sempre per esempio questo assalto corretto fuoco che diciamo viene sempre bene un po' in tutti i mazzi in tutti i mazzi perché vi permette di tenere sotto controllo il board del sia vostro che degli avversari o comunque di permettere a quei mazzi che eventualmente dovessero prendere il sopravvento sul board di non esagerare insomma diciamo poi tutte le scelte delle trame invece sono proprio sinergiche a quello che vi serve fare per cui potete veramente valutare a seconda di quello che fanno i vostri mazzi le grandi differenze comunque sono tra trame di diciamo che vi serviranno per schierare personaggi trame difensive e trame per sviluppare invece la strategia dei vostri deck bene bene io direi che con questo è tutto non mi vengono in mente sinceramente molte altre indicazioni generiche da fornirvi beh no al momento no poi pian pianino quando il pool di carte sarà più ampio e più vasto avremo modo di parlarne più accuratamente all'eventualità sì in ogni caso questo tutorial vorrebbe essere veramente soltanto per darvi linee guida generiche per farvi capire su cosa ragionare quando costruite i vostri mazzi non per darvi indicazioni specifiche su singoli mazzi cosa che non mi sembra particolarmente interessante in questo momento soprattutto quindi con questo è tutto un saluto da Massimo da Fabio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti